Mini riassuntino abbiamo scoperto l'identità di Nocturnus che altri non è una parte di Natsumi e adesso stiamo cercando di capire come possiamo sconfiggerla l'unica che può mettere a tacere lei e questo caos sei tu eh che cosa intendi dicendomi così è semplice dille come ti senti veramente colpiscila con i tuoi sentimenti per Judgment 7 avanti alza la voce la incoraggio e gli altri la stanno guardando con i sorrisi in viso con i sorrisi in viso tutti la guardano sorridendo l'italiano addio mi piacerebbe che tu ti muovessi non abbiamo così tanto tempo Ori-san mette pressione, mette fretta a Natsumi-san con uno strano gigno Na-chan combatti Yuno-san incoraggia Natsumi-san con una posa familiare è arrivato il momento dell'evoluzione di Natsumi-sensei la guarderò attentamente Yuno-san fa brillare i suoi occhiali Accetterò i tuoi sentimenti Sii negrato Sii negrata, anzi Tatiana sembra che sia felice delle posizioni che sono state riservate ad ognuno di noi Ah, ecco un microfono Fai in modo che ti sentiamo Finalmente Asana-san tira fuori il suo karaoke portatile da non si sa dove e lo dà a Natsumi-san Lei lo prende sovraffatta dalla situazione Cos'è questo gioco di punizioni? Forse sto subendo la punizione per il modo in cui ho condotto la mia vita finora E' tutto troppo patetico Mi fa ridere In realtà si sta godendo tutta la situazione più di quanto sia pronta ad ammettere Un momento più tardi si mette davanti a Nocturnus Smettila con questa resistenza inutile Nocturnus parla come se la stesse rimproverando e Natsumi-san replica Sì, è inutile Inutile, completamente inutile Smetti di fare ciò che non va bene per te Hai ragione, non è da me Lo so, lo so Allora perché stai resistendo a te stessa? E' ovvio Voglio tornare indietro Il posto dove voglio tornare ha spazio per me E' il mio mondo E finalmente l'ho scoperto La realtà è senza senso E' inesorabile crudele E anche solamente respirare lì è deprimente Ma a volte può essere così gentile E' calda, pacifica E può affascinare Estasiare E mi attira così tanto che mi dimentico quasi di respirare Quel posto ha un tizio pervertito Sì, sicuramente Un bamboccione Pieno di illusioni Che onore Una donna sfortunata Ehi, tu non dovresti parlare Una ragazza infantile Un'amica zuccona Sì, sono qui Nasri-san guarda direttamente Nocturnus E parla Con un tono determinato Per questo vale la pena vivere Anche se è difficile Quella Quella non sono io Non sono io No, quella sono io 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 Per me Judgment 7 è Nasri-san fa un respiro profondo E urla Nel microfono Li voglio così tanto bene Che vorrei ammazzarli È un urlo così Dal volume così alto Che produce un feedback audio Praticamente è un attacco A Nocturnus L'urlo silente dell'angelo Riecheggia attorno a noi E Il mondo viene avvolto Da una luce bianca Nel momento in cui possiamo vedere di nuovo La notte è diventata mezzogiorno E La nocturnus Nera È tornata Ad essere bianca Capisco Quindi mi hai trovata La voce dell'angelo Non è più quella di Natsumi-san Quella che parla è Reina-san Avvolta dalla luce Nocturnus Scompare E appare Reina-ichinos-san Al suo posto Finalmente sono libera Reina-san 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 Abbiamo sconfitto Nocosa E abbiamo avuto indietro Reina È magia Un'illusione Tatiana comincia a fare casino Icirei Ma perché Ma I tuoi dati non erano stati cancellati Che cosa intendi chiedendomi perché Siete stati voi ad avermi chiamata Durante il viaggio I miei dati sono sicuramente spariti Dal server di Akashic Ma prima che potessero sparire Akashic Ha utilizzato la rete Per spargere I dati Dei miei ricordi In tutto il mondo Le ha sparsi in tutto il mondo? Sì I miei dati hanno continuato ad esistere Negli hard drive di tutti i pc Di tutto il mondo Persino io sono sorpresa di questa cosa Quindi I suoi dati Sono scappati Alla cancellazione Nascondendosi nei pc Di tutto il mondo E grazie alle emozioni di Akashic Qui Dentro Akashic Sono stati richiamati tutti i miei dati Ma dato che i miei dati Erano in uno stato Molto instabili Sono stata presa da Nocturnus E non ho potuto fare nulla Sembra però che il nostro nuovo direttore Abbia fatto qualcosa a riguardo E grazie a questo Sono tornata Si mette in posa Una cosa decisamente da Judgment 7 Capisco Quindi è questo ciò che è successo Non male Ori-san Annuisce soddisfatto Che diavolo è possibile una cosa del genere? Mi sembra assurdo Guarda Sano-san E sorrido Sì Ovvio che è possibile Questo è il nuovo mondo Dopotutto In una certa maniera Questo mondo è il nostro Sì Sorellona I nostri commenti Fanno sentire a Sano-san Stupida per aver chiesto questa cosa Beh mi sa che avete ragione In questo mondo va tutto bene Quindi Ma mi sa che devo essere solamente contenta Di aver avuto i C-rei indietro Oh che farsa Nessun mondo dovrebbe Giocare con me così tanto Nonostante il suo commento Natsumi-san sta sorridendo Bentornata C-rei Bentornata C-rei Bentornata Reina Bentornata Reina-san Hai fatto un buon lavoro con il tuo ritorno C-rei Ti abbiamo aspettato Reina Tutti quanti Danno benvenuto e bentornato A Reina-san In quanto Fonte di questo piano Non posso rimanermene zitto Bentornata Reina-san Lo dico in qualche modo Timidamente Grazie a tutti Grazie a tutti Mi piacerebbe Dare una festa Per celebrare la nostra riunione Ma Non abbiamo molto tempo Dobbiamo uscire da qua Prima che Lab 13 scopra Che sono tornata Grazie a tutti Praticamente siamo in presenza di un glitch Il programma di ribilanciamento non funziona E le sue funzioni sono incomplete E persino il sistema di Akashic non sta funzionando a modo Questo è il motivo per il quale non c'è nessun computer E non funziona il programma di ritorno Che avete installato dentro il vostro programma World Dato che la causa di tutto questo è un errore di sistema Ma la situazione non è cambiata Anche se Nocturnus è sparita Cosa? Quindi non ce ne possiamo andare nemmeno Dopo aver lavorato così tanto per chiamarti? Tatiana sembra sull'orlo delle lacrime Quindi ti abbiamo rievocata ma non possiamo cambiare il mondo eh Beh io sono semplicemente felice che siamo riusciti a rincontrare Ichirei Rende il tutto più sopportabile Reina quindi nemmeno tu puoi fare nulla? Beh allora mi sa che non si può fare proprio niente E dai riprendetevi Mentre tutti si disperano Reina Sun Li Sgrida State mollando semplicemente per questo motivo? Abbiamo sviluppato un gioco in condizioni peggiori Non ve lo dimenticate mai I giochi cambiano il mondo Noi cambiamo il mondo E poi lo dominiamo E' questo Judgment 7 giusto? Non importa quanto lo sforzo sia assurdo Noi lo faremo con un sorriso sui nostri volti Andremo avanti anche quando le persone non ci capiranno Questa è la Judgment 7 che io amo Le parole di Reina Sun rivinalizzano velocemente il cuore di tutti E' davvero evidente che lei abbia una certa esperienza nel dirigere tutti quanti E' proprio diversa dal direttore che sono io E vedendola così mi sento un po' giù di morale Cosa c'è che non va a Reji-kun? No No non sono pronta Non lo so Sei incredibile Oh stavo solamente pensando che sei incredibile Veramente Intendo Gli hai tirati su di morale così facilmente Sei un vero direttore Grazie Ma penso che anche tu sia abbastanza bravo Nonostante la situazione disperata Hai continuato ad andare avanti fino alla fine E hai guidato tutti con i tuoi poteri e le tue emozioni Grazie a te il cuore di tutti è diventato uno E io sono riuscita a tornare alla vita Sono davvero felice di sentire questa cosa Oltretutto io non ho la chiave per lasciare questo mondo Sei tu ad averla Eh? Io? Incapace di capire Ripeto le sue parole Come ho detto prima questo mondo virtuale è processato dai nostri cervelli È per questo che non arriverai ad una singola conclusione Se tutti quanti non condividono gli stessi pensieri ed emozioni In altre parole se riesci ad unire e condividere una singola emozione E sperare che accada qualcosa in maniera così forte Questa cosa diventerà realtà in questo mondo Per scappare da questo mondo Che è in loop a causa di un sistema Di un errore di sistema Devi puntare sulla forza E sul legame che c'è tra di voi No Sbagliato tasto Se condividerete un singolo sentimento Non dovrebbe essere impossibile Per voi sorpassare il sistema stesso Raina Sun prende la mia mano E mi guarda diretto negli occhi Il cuore di tutti è così vicino al tuo ora È per questo che tu sei l'unico A poter creare il giusto finale A questo mondo in loop Fallo e questo mondo verrà distrutto Riportandovi tutti al mondo reale Un degno finale a questo mondo in loop Sono interessato Ha l'idea di capire che tipo di finale Hai in mente per noi Rejikun Io vorrei un finale felice Ah ma stiamo parlando di Rejikun Quindi probabilmente non avrei nemmeno dovuto dire questa cosa Non voglio nessuno di quei finali generici Con un sacrificio E non voglio che nessuno si metta insieme a nessun altro Anche se tu lo volessi veramente io considererei l'idea di... Ah quindi ti sacrificeresti per noi? Ah mi dispiace Nooo sto parlando di metterci insieme Oh stai dicendo che non ti importerebbe metterti insieme ad Iruka o Duwari? Nazmi-san sta prendendo in giro Asano-san E lei si arrabbia Non scherzare in quella maniera Praticamente sarebbe lo stesso che sacrificarsi Non farò una cosa del genere Eh dai sei cattiva Tutti quegli abusi verbali mi hanno causato almeno un milione di punti di danno Ma sorellona così rimane solo Rejikun no? Ehm... Beh... La faccia di Asano-san diventa super rossa Sto parlando ipoteticamente Sto solo dicendo che potrebbe succedere Solo in caso Allora forse dovrei mettermi io insieme a lui Sarebbe un bel finale no? Iruka-san dice una cosa così enorme Con nonchalance Rejikun no? Tanya-demo i no da zon Lablabu no happy end no da Rejikun no? Anche noi potremmo metterci insieme Sarebbe un finale felice e tutt'amorevole Iruka-san e Tatiana prendono le mie mani Ma che diavolo? È il ritorno dell'uomo dell'amore? State zitte Zuccona E mocciosa Natsumi-san si arrabbia con loro Penso che i due che debbono finire insieme Dovrebbero essere coloro che sono più fotogenici Mi guarda e onestamente non riesco a capire che cosa voglia Oh sei abbastanza popolare Rejikun Che cosa ne dici di scegliere me? Non lo permetterò Natsumi-san urla Velocemente Sto solo scherzando Come ho detto Il cuore di tutti deve essere unico Un finale dove qualcuno è insoddisfatto oppure geloso Non vi farebbe fuggire da questo mondo Il finale migliore Quello che tutti speriamo Un finale felice che sarebbe perfetto Per dare conclusione a questo mondo folle Non ci vuole molto prima che io arrivi a una conclusione Istantaneamente capisco una cosa Che possiamo fare solamente in questa situazione Ed è il finale più felice che potremmo sperare Andiamo in ufficio È lì che il nostro finale perfetto e felice sarà Mentre ci dirigiamo all'ufficio arriva mezzogiorno Ed inizia La pioggia di missili su Tokyo Ormai L'attacco balistico È solamente come piogerella per noi Non abbiamo smesso di camminare Nemmeno quando le esplosioni ci stavano spazzando via Dopo tutto il finale era proprio di fronte a noi Appena arrivati in ufficio Ho fatto aspettare tutti quanti Fuori E sono corso dentro l'edificio Ho preso una cosa dall'ufficio degli sviluppatori E sono tornato correndo fuori Scusate per l'attesa Guardando quello che è in mano Mi sa che vuoi scattare una foto? Esattamente Sto tenendo in mano Un treppiedi Per smartphone Sembra una cosa buona ma davvero Arriveremo a un finale felice? Non mi sembra una cosa molto Pensa per un momento Non capita certo tutti i giorni Di poter fare una foto di gruppo Con tutti e otto Il Kassan capisce subito il punto E si mostra sorpreso La vera Reina San non è più con noi Quella che c'è qui è una personalità virtuale Ricreata con i nostri ricordi Con i suoi ricordi Può esistere di persona Solamente in questo mondo virtuale Senza contare che la vera Reina San Era indebolita E ha passato la maggior parte Del sua vita in un ospedale Ha fatto il suo lavoro di direttore Solamente via chat Non hanno nemmeno una singola foto Con tutti quanti assieme Capisco Hai totalmente ragione Reiji Questo è il miglior finale Che potremmo sperare Nazmi San approva la mia scelta Non è una cattiva idea Trattandosi di una tua idea Sì facciamoci la foto Non vedo l'ora di vedere come verrà Tutti quanti sono eccitati all'idea Reiji Reiji Ci hai pensato così bene Sono un mentore molto orgoglioso Va bene Reiji Sistema tutto ok Lasciate fare a me Sistemo il treppiedi sul terreno E ci piazzo sopra il mio smartphone Assicurandomi Che sia rivolto verso l'ufficio Ok tutto fatto Mettetevi tutti in posa E tutti fanno ciò che dico Attivo il timer E mi unisco a loro Per prima cosa Provo a mettermi Un po' nell'angolo Vicino ad Asano San Ma Direi che su questa foto Di gruppo Che ancora non stiamo vedendo Ci fermiamo Alla prossima volta vediamo Cosa succede E se veramente Questa cosa così semplice Ci riporta al mondo reale Cosa succede